per essere stata costruita con dei licenziati e un gruppo di sensitivi quindi questa funzionerebbe come una tavola vedi c'è una placetta si sposta sulle lettere e quindi va a intaccare quindi funziona come una tavola normale tutto a posto qua c'è il comando vocale a presto ha scritto ha scritto girati girato ragazzi l'applicazione è saltato da sola non è un po' c'è qualcuno dentro questa bambola chi? sei un'entità demoniaca sei un'entità demoniaca sei un'entità no sei un'entità demoniaca? no sei in questa stanza? è un'entità demoniaca è un'entità demoniaca no 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 non posso uscire da questa seduta non non no è un'entità demoniaca è un'entità demoniaca è un'entità demoniaca ho già idea di cosa sta scrivere ma glielo lasciamo finire perché ho già ho già mezzo intuito qualcosa perché come sai ah si ho intuito cosa sta scrivendo ma non lo dico però lo sto intuendo è intuibile l'avete capito anche voi cosa sta scrivendo a fine ragazzi io gli ho chiesto posso uscire dall'assoluta e mi ha risposto a questo ragazzi la voglio inquadrare meglio devi rimanere devi rimanere ragazzi devi rimanere dobbiamo dobbiamo rimanere perché devo rimanere perché devo rimanere perché devo rimanere dobbiamo rimanere perché devo rimanere mi ha risposto nascondermi perché devo rimanere nascondermi lui vuole rimanere per nascondersi in casa mia e se io buttasse l'acqua santa nella bambola voglio voglio chiudere questa seduta ora per favore la bambola la bambola è la bambola la bambola la bambola la bambola la bambola è la bambola la bambola è la bambola 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 io ho detto posso lasciare la seduta Voglio chiudere questa seduta Per favore E mi ha risposto così Stai qui Stai qui Stai qui E' inutile in quale verso Ma non vuole farmi andare via dalla seduta Ragazzi Quando mi metto in questi circoli viziosi Di solito io bestemmio E mi incazzo Mi stai obbligando No Allora se non mi stai obbligando Fammi andare via da questa seduta E mi stai obbligando E mi stai obbligando Goodbye 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 Goodbye